L'ora esatta è offerta da Dai più valore alla tua casa Vieni a visitare lo showroom di Edil 2000 Cambieremo volto alla tua casa Con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredobagno, rubinetterie Scoprirai le nostre promozioni, i servizi, la consulenza E da non perdere il reparto arredo giardino con i nuovi arrivi di barbecue Edil 2000 per risparmiare davvero Strada per Serravalle a Novi Ligure Un cordiale saluto a quanti seguono questa edizione del nostro telegiornale Il capo della protezione civile nazionale, perfetto Franco Gabrielli Ha presenziato questa mattina la cerimonia svoltasi alla scuola di Polizia di Alessandria Dove è stata scoperta una lapide in memoria delle vittime E del contributo dato durante i giorni dall'alluvione delle forze dell'ordine Alla cerimonia sono intervenuti il prefetto Romil De Tafuri Il sindaco, presidente della provincia di Tarossa Il questore Mario della Cioppa Parlamentare, amministratore regionale e provinciali Vertici dell'arma dei carabinieri, guardia di finanza Guardia forestale, vigile a fuoco, polizia municipale e protezione civile Subito dopo il prefetto Gabrielli ha accompagnato il sindaco Si è recato in visita alla nuova costruzione del ponte cittadale Di quello che sarà il ponte sul Borbina Vediamo i servizi Il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della protezione civile nazionale E' stato in visita ad Alessandria E' venuto in occasione dello scoprimento della targa commemorativa del ventennale dell'alluvione Alla scuola di polizia di Alessandria Una cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari alessandrine Per ricordare l'aiuto prestato presso la scuola allievi agenti di polizia Nei primi giorni dell'alluvione del 94 E in effetti a novembre dell'anno scorso Gabrielli era già stato invitato ad Alessandria Per problemi proprio di emergenza non aveva potuto essere presente Con la cerimonia di oggi invece l'amministrazione comunale In accordo con il prefetto Gabrielli Ha voluto dare continuità alla serie di iniziative Promosse proprio lo scorso novembre per il ventennale dell'alluvione Ricordare fa sempre bene perché ricordare è anche una forma di ringraziamento A chi in quelle circostanze ha lavorato e ha portato aiuto, assistenza E ha posto le basi per una ricostruzione che per fortuna in questo territorio Si è realizzata e si è realizzata nel migliore dei modi Ed è un modo intelligente per far comprendere la fragilità dei nostri territori Del fatto che i temi di protezione civile, i temi della messa in sicurezza del territorio Sono temi sempre attuali Quindi ricordare non solo per fare cerimonie fine a se stesse Ma per guardare anche al futuro con l'imperativo della messa in sicurezza del territorio Quell'avvenimento del 94 spronò il governo a realizzare quella che oggi si chiama protezione civile? Il servizio nacque due anni prima ma come tutte le cose nel nostro paese Ovviamente due anni erano molto pochi per rappresentare un'efficacia di azione E anche da quegli eventi come poi dagli eventi del 2000 e dalle altre calamità che interessarono il paese Quel servizio si è rafforzato e in territori come questo oggi rappresenta una certezza e una positività Dopo la cerimonia alla scuola lievi di polizia di Stato Antonio Cardile Il capo della protezione civile Gabrielli ha preso visione dello stato dei lavori del nuovo ponte Meyer sul fiume Tanaro Ad accompagnarlo il sindaco Rita Rossa, il prefetto di Alessandria Romini da Tafuri E molti dei rappresentanti delle forze che compongono la protezione civile L'ultima parte della visita è stata poi dedicata al fiume Bormida E durante il sopralluogo si è sottolineata l'importanza che anche su questo lato della città di Alessandria Possa essere costruito un altro ponte che favorisca l'eventuale evacuazione della città in caso di emergenza Il forte vento che per due giorni ha soffiato a 132 km all'ora anche in provincia di Alessandria Per fortuna non ha causato gravi danni I vigili del fuoco alla protezione civile sono intervenuti in alcune località Tra le quali capanne di Cosala in Val Barbera A ridosso con l'Appennino Ligure, Ponzono e Percetto di Valenza D'anni sono stati registrati alle auto per rami e alberi caduti Una pianta, come vedete in questa immagine, si è abbattuta su un'autovettura In località Giallotti di Castelletto, Monferrato Per fortuna non ci sono danni a persone 63 identificati, 22 stranieri, 16 per giudicati controllati Oltre 38 veicoli verificati Una persona denunciata per porto abusivo di coltello di genere proibito E il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato della questione di Alessandria I controlli sono stati effettuati al quartiere Cristo Pista nei giardini davanti alla stazione ferroviaria in piazza Berlinguer Nella frazione di Val Madonna, Val San Bartolomeo e Spinetta Marengo Con l'ausilio del reparto prevenzione e crimini di Torino Sarà recitato questa sera alle 21 in Duomo a Tortona Il rosario per Guido Ghisolfi L'industriale morto suicida martedì scorso In seguito di una forte crisi depressiva I funerali che molto probabilmente ufficierà il vescovo Dall'ioci di Tortona Vittorio Francesco Viola Si svolgeranno invece domani alle 14.30 sempre in Duomo Alle esegue molto probabilmente anche se al momento non c'è nessuna certezza Dovrebbe partecipare anche il premier Matteo Renzi Grande amico di Ghisolfi Certa invece la presenza del presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino I titolari di un bar situato in piazza Marconi d'Alessandria Sono stati assolti perché il fatto non sostiste dall'accusa di frode in commercio Il servizio è di Ema Camagna Frode in commercio Da questa accusa Stefano Adriano Serratore Titolari di un bar in piazza Marconi E i produttori lombardi Adelmo Long e Fabrizio Mauri Sono stati assolti dal tribunale perché il fatto non sussiste Erano difesi da Valeria Massolo e Domenico Perrone Cos'era successo? Due componenti delle forze dell'ordine Entrati nel bar per bere un caffè Avevano notato in esposizione alcune tessere di gratte vinci Non avevano il marchio del monopolio di Stato Per cui scattò la denuncia seguita dall'inchiesta e ora dal processo Conclusosi a favore degli imputati E' infatti emerso che le tessere prodotte dall'azienda Lombarda Somigliavano a quelle emesse dal monopolio Ma erano di altra natura Infatti il vincitore che ne è perfettamente al corrente Non ha diritto a intascare denaro Ma solo a beneficiare di una birra o di una coca cola O al massimo di una bottiglia di vino Insomma non si inganna nessuno Quindi nessuna frode I cappelli Borsalino continuano a vendersi in tutto il mondo Ma l'ingredibilità di questa vicenda L'azienda Borsalino che ha rischio a fallimento A causa della cattiva amministrazione Dopo la sparizione dell'ex scomparsa Dell'ex maggiore azionista L'attuale amministratore delegato Chiede al Tribunale ancora quattro mesi Per mettere in pratica un piano di salvataggio Ce ne parla De De Vinci Per la città di Alessandria Il marchio più noto al mondo Resta quello di Borsalino I cappelli Borsalino sono venduti in tutti i paesi Da oriente ad occidente indifferentemente Ed in tutti gli stili Le vendite dei cappelli Borsalino sono in crescita Per Expo 2015 Addirittura la capacità attrattiva della regione Piemonte Sarà costituita da una serie di pacchetti Che prevedono ad Alessandria proprio il lusso E dei cappelli Borsalino e dei gioielli di Valenza Così come ad Alba Cuneo L'attrazione sarà il Barolo A Biella le produzioni in Kashmir Per Aste Casale e in Monferrato La cosa incredibile è che Nonostante il grande marchio Borsalino Si è sempre sulla cresta dell'onda La situazione societaria resta critica Esiste addirittura la minaccia di fallimento Molte quote societarie sono in mano a curatori fallimentari O a custodi giudiziari Dopo che il maggior azionista Il finanziere Marco Marengo Si è reso irreperibile Lattitante Accusato di aver evaso decine di milioni di euro al fisco Un altro caso tipico italiano di finanza acrobatica Il marchio Borsalino è già stato ceduto Per 16 milioni di euro Ad una società di leasing Però qui c'è l'intenzione di riscaltarlo negli anni Resta il caso invece dei 130 lavoratori dipendenti Che costituiscono la vera forza produttiva E che è unica al mondo E sono quindi oggi oggetto del desiderio di acquisto Da parte di molti gruppi finanziari L'eventuale cessione infatti della forza lavoro Non può prevedere il trasferimento Il luogo di produzione deve rimanere insomma quello attuale L'amministratore delegato di Borsalino Marco Moccia Ha fatto sapere che la speranza di salvataggio E' costituita da un piano concordato Che consenta la ristrutturazione dei debiti E la soddisfazione dei crediti Quindi confida che il tribunale Possa concedere 120 giorni Ovvero 4 mesi Per trovare una soluzione Con l'intento di preservare Almeno parzialmente la forza lavoro E dare modo ai 4 avvocati Di un noto studio torinese E un consulente finanziario di Roma Di salvare il salvabile La città di Alessandria vuole lavorare E riprogettare la vivibilità urbana Avalendosi della collaborazione della sua università L'Amedeo Avogadro E' stato firmato un protocollo di intesa Che prevede il coinvolgimento di alcuni dipartimenti dell'università Gli studi saranno diretti ad alcuni temi In particolare la mobilità sostenibile La programmazione energetica E la rigenerazione urbana In particolare le aree territoriali degradate Che necessitano di interventi di riqualificazione La collaborazione tra università e città Potrà svilupparsi in proporzione Agli sostegni economici Che si riusciranno a reperire Adesso parliamo del terzo valico Le cambiamento che inizia sabato prossimo 21 marzo Per la sala Iuta di Alquata Scrivia Un convegno a titolo Fuori dal tunnel Inutilità e danni delle grandi opere Il sistema delle grandi opere E il terzo valico Saranno presenti tecnici Docenti universitari Amministratori e magistrati Vediamo il servizio Sempre vivo nel Novese Il dibattito intorno al terzo valico Il circolo Legambiente Vallemme Infatti in collaborazione con Legambiente Nazionale Ha annunciato per sabato 21 marzo Presso la sala giunta di Alquata Scrivia Lo svolgimento del convegno dal titolo Fuori dal tunnel Inutilità e danni delle grandi opere Il sistema delle grandi opere E il terzo valico Nel corso della giornata Si analizzeranno sotto vari aspetti Con l'aiuto di tecnici Docenti universitari Amministratori e magistrati Il sistema delle grandi opere E il terzo valico in particolare L'obiettivo del convegno Per gli organizzatori È quello di informare i cittadini Dati alla mano Su quali siano i rischi E le conseguenze Di un modello di infrastrutture Come quello delle cosiddette grandi opere In termini di controllo democratico Del territorio Di politiche di trasporto E di investimento di risorse pubbliche Di impatto ambientale Sociale e sanitario E di rischio di infiltrazioni mafiose Nel dettaglio Secondo il programma Dopo il saluto di Paolo Spineto Sindaco di Arquata Si affronteranno due macro temi Il primo Terzo valico Italia Europa Ambiente e tutele E il secondo Grandi opere Comunità locali E controllo democratico Impatto sociale e sanitario Rischio corruzione Ed intanto Sul sito Notavterzovalico.ifo Il movimento contrario all'infrastruttura Prosegue con la sua azione di protesta Contro l'opera Con pubblicazioni tematiche Quasi quotidiane Sul versante politico Invece a Novi Ligure Si è aperto il fronte Delle cosiddette opere compensative Che sono ferme al palo Per questo motivo I sindaci hanno chiesto L'incontro con il ministro Dei trasporti Maurizio Lupi Per il sindaco di Novi Muliere Si tratta di un problema politico Che va affrontato insieme al governo Visto che i lavori sono iniziati E c'è bisogno di un intervento In merito alle opere compensative Da un lato Per definire le percentuali Delle opere in rapporto Agli stanziamenti Dall'altro Per sollecitare L'intervento e l'erogazione Delle risorse Destinate alle opere stesse Novi Nello specifico Ha alcune priorità Soprattutto Dopo quanto accaduto Con l'alluvione E alcuni parlamentari Avevano già chiesto In merito di dirottare Somme delle opere di compensazione Al ripristino Dei danni alluvionali Al momento Due le priorità In relazione alle opere Una è la tangenzialina E l'altra La messa in sicurezza Di alcune zone del territorio Viste i danni Riportati tra ottobre e novembre La quarantenne Delia Revelli E' la nuova presidente Di Coldiretti Piemonte Succede a Roberto Moncalvo Tra gli obiettivi principali Per il rilancio Dell'economia Piemontese Semplificazione Birocratica E sviluppo Delle filiere Agroalimentari Vediamo il servizio Curato da Roberto Monterizio Delia Revelli Delia Revelli Eletta presidente Di Coldiretti Piemonte Durante l'assemblea Presso il circolo Dell'elettore di Torino Succede a Roberto Moncalvo Che secondo quanto previsto Dallo statuto Si dedicherà Esclusivamente Alla presidenza Della confederazione nazionale La neoletta Presidente regionale Di Coldiretti Piemonte Allevatrice Di pesci d'acqua dolce Della provincia di Cuneo Ha salutato l'assemblea Sono onorata Per l'incarico Affidato Mi ringrazio Moncalvo Per il lavoro Che ha svolto in Piemonte Ma soprattutto Per quanto Sta portando avanti A livello nazionale Con il supporto Dell'intera dirigenza confederale Ha poi proseguito Continuerò Nella tradizione tracciata Di un lavoro di squadra Innanzitutto Teso a rafforzare Le diverse filiere Utilizzando al meglio Le risorse Del programma Di sviluppo rurale Da quella risicola A quella ortofrutticola Dal comparto Zootecnico A quello Cerealicolo E vitivinicolo Per tutte quante Dovremmo continuare A perseguire Una semplificazione Ha concluso Cercando di proporre Il prodotto Al consumatore Eliminando passaggi inutili Nel passare Il testimone Al suo successore Il presidente Moncalvo Ha tratteggiato Una panoramica Di quanto sta avvenendo In questo momento A livello nazionale Su alcuni temi Di rilievo In questo momento Sarà importante A livello Piemontese Cosa che sta accadendo In tutte le altre regioni D'Italia Affrontare e chiudere Con forza La partita Della nuova Programmazione comunitaria In particolare Il piano di sviluppo Rurale Va definito Nel dettaglio E soprattutto Va messo A disposizione Delle imprese Nel minor tempo possibile Perché Nonostante le difficoltà Economiche Ci sono tanti giovani E tante imprese Che sono pronte A cogliere Le opportunità Di questo nuovo Strumento Per proseguire E per investire Nuovamente E in modo importante Nel settore Agricolo E della produzione Di cibo piemontese L'amministrazione Comunale Di Ovada Ha invitato i giovani A presentare Dei progetti Realizzabili Per rendere La città Più funzionale Il servizio Di Bruno Mattana Largo ai giovani L'amministrazione Comunale di Ovada Non solo Non si dimentica Di loro Ma vuole renderli Protagonisti Nel ruolo Di ideatori Di progetti Piccoli o grandi Che siano Per migliorare Sotto l'aspetto funzionale La vita pubblica Cittadina Così è nato Da un'idea Del consigliere delegato Alle politiche Giovanili Elena Macchelli Young Ovada Vuole movimentare L'inventiva La fantasia Di tanti giovani Nell'ambito scolastico Invitati a presentare Progetti realizzabili Di cui l'amministrazione Comunale Terrà conto Anche nell'ambito Delle risorse disponibili Per un'eventuale Futura realizzazione Gli studenti vadesi Hanno presentato Presso la loggia Di San Sebastiano Una serie di progetti Di indubbio interesse Che sono stati Giudicati interessanti E i singoli autori Hanno ricevuto Già un attestato Che riconosce I loro meriti Ci parla del progetto Il consigliere delegato Alle politiche Giovanili Elena Marchelli È stato chiesto Di elaborare Un progetto Per Ovada Ovviamente Non doveva essere Un sogno Ma doveva essere Supportato Analizzabile Esatto Sì Da un'attenta analisi Economica E anche Insomma Una particolare attenzione Ai regolamenti Da rispettare Sette lavori Sono Sette Sette progetti Esatto Sì È stato presentato Il distributore Di acqua Potabile Sì E la rete Wi-Fi Open Wi-Fi E il Cineforum Young Ovada Smart Ovada E anche Parchi di Ovada E la Casa di Carità Ha portato Ha concretizzato La loro idea Con uno strumento Per rimuovere Le gomme da masticare I Cinefori Le gomme da masticare Comunque Questi progetti Verranno poi Realizzati Sì Saranno tenuti Sicuramente In considerazione E siamo molto soddisfatti Del lavoro Che hanno fatto i ragazzi Donare il sangue Del cordone Ombelicale Vuol dire dare speranza A una nuova vita È partita Infatti la campagna Di sensibilizzazione Promossa Lions E il Ministero Della Salute Vediamo Ciò che ha nutrito Una vita Può ancora dare La vita Con questo slogan Il Lions Club In collaborazione Con Adisco E Cassa di Risparmio Di Alessandria Ha promosso Anche in provincia Una campagna Di sensibilizzazione Per la donazione Del sangue Del cordone Ombelicale Non buttatelo Donatelo Perché sia pure Nel piccolo Ma ammesso Che con una donazione Di un cordone Ombelicale Riusciamo a salvare Sia pure la vita Di un solo bambino O di una sola persona Bene Abbiamo fatto Il nostro dovere Di uomini E di Di donazione E di Avere Il grande piacere Di dare A qualcun altro Perché credetemi Dare agli altri È molto più bello Che dare a se stessi Andiamo in fine A Novi Ligure Domani sabato 7 marzo Al Museo Dei Campionissimi Alle ore 10 Del mattino L'appuntamento E con il progetto Benessere Guadagnare salute Una nuova cultura Della prevenzione L'avvenimento è curato Da dottor Giancarlo Faragli E coordinato Dalla dottoressa Patrizia Orsini Responsabile Della biblioteca E delle attività culturali Di Novi Ligure Saranno Molti gli ospiti E esperti In filosofia orientale Yoga Fitness Awareness E siamo così Giunti alla pagina sportiva Vi ricordo Che domani Al Palaruffini Di Torino Subito dopo La sigla Il telegiornale Parleremo di questo Al Palaruffini Di Torino Le finali Di campionato nazionale Di Kendo La rassegna Comincerà con le competizioni Individuali In programma Sabato Mentre domenica Sarà la gara Squadre Tra le accademie Pedagogici Sarà anche Il codo Candice Alessandria Con la formazione Vinata da maestro Nando Magarotto E capitanata da Fabrizio Mandia Subito dopo Nel servizio curato Gianluca Ardiani Parleremo della trasferta Della Alessandria A Pordenone Poi sentiremo Come sarà il tempo Nelle prossime ore Le notizie utili Grazie per essere stati con noi Arrivederci